Al periodo arcaico si data il frammento di una pietra arenaria con un'iscrizione incisa ritrovato nel 1832. Il frammento, tagliato in età moderna per farne pietra la costruzione di un edificio, è da ritenere pertinente a una stele di grandi dimensioni. Il monumento doveva segnalare il sepolcro di Larish Halashnas, ricordato dall'iscrizione che corre in verticale lungo il fianco del frammento conservato. Il prenome Larish è uno dei più diffusi nell'onomastica etrusca. Nel gentilizio Halashnas le due lettere AS che abbiamo racchiuso nella trascrizione fra parentesi graffe, sono interpretate come errore dello scalpellino, che verosimilmente si dimenticò la lettera NI e quindi ripetè la parte finale correggendola. Questo gentilizio si forma secondo un processo ben noto nell'onomastica etrusca. La terminazione NA, molto diffusa nei gentilizzi, significa appartenenza ed era usata anche per gli aggettivi, come mostrano ad esempio il sostantivo SHUTI, che significa tomba, e il derivato SHUTINA, che significa della tomba, cioè funerario. Questi nomi erano infatti la fissazione di antichi aggettivi formati con il nome del padre. La speciale terminazione finale con SADE veniva invece aggiunta a molti gentilizzi, assumendo un valore distintivo sul piano sociale. Probabilmente per distinguere le famiglie di più antica nobiltà da quelle di più recente formazione. Il MA finale, ancora di incerto significato, è presente nelle iscrizioni funerarie su stele e cippi.